e adesso possiamo entrare nel merito e salutare i primi ospiti saluto con grande piacere attilio fontana presidente di regione lombardia presidente buongiorno grazie per essere con noi sulle fonti tv in questo evento speciale grazie a lei e grazie a voi dell'opportunità grazie saluto anche la vediamo già giusi versace atleta paralimpica e parlamentare grazie giusi per essere qua anche a lei grazie a voi buongiorno presidente fontana io vorrei proprio aprire con lei per dei saluti istituzionali in questa giornata che è dedicata alle donne ma io mi sono sentita di dire una cosa poi abbiamo lanciato anche questo appello al presidente del consiglio mario draghi la donna oggi deve diventare simbolo della giustizia è d'accordo e poi le chiedo appunto di introdurre questa giornata sulle fonti tv buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per l'opportunità è un'opportunità importante perché io credo che si debbano fare ancora passi determinanti per superare la situazione che di cui ancora tutti i giorni siamo testimoni noi non possiamo più accettare che ci siano delle discriminazioni possiamo accettare che ci siano delle situazioni di che devono essere poste tutte a carico della donna e vedete per esempio durante il questo periodo durante la pandemia tutti quanti abbiamo notato che lo dice l'istat quindi sono dati di fatto assolutamente oggettivi che purtroppo la disoccupazione si accanita nei confronti del mondo femminile perché evidentemente è stato è più difficile conciliare e mettere insieme la necessità lavorativa con i tanti altri impegni ecco io credo che questo fatto sia quello da cui si deve partire per porre in essere delle politiche forti per superare queste ultime discriminazioni queste ultime limitazioni alla vita della della donna rivedendo per esempio anche dalla legge sulla conciliazione vita lavoro perché bisogna rivederla ecco bisogna riguardarla bisogna fare in modo che effettivamente si superino gli ultimi problemi che sono tutti posti a carico del mondo femminile io credo che le parole del presidente draghi che lei ha letto siano un buon auspicio per iniziare a fare quest'ultimo passo qualcosa si è fatto ma adesso dobbiamo fare il passo decisivo è la parte più difficile perché io credo che sia stato difficile iniziare ma sia ancora più difficile la conclusione dobbiamo farlo non dobbiamo fermarci che poi si tratta di dare giustizia a tutti no presidente il cambio di passo che è un po il simbolo di questa maratona a volte parte proprio da situazioni difficili come quelle della pandemia lei ne sa qualcosa perché insomma è coinvolto in prima persona ogni giorno nella lotta al covid ma insomma ci auguriamo che questo possa essere uno spartiacque diciamo così tra quello che era il nostro paese prima con una carenza di interventi strutturali che lamentiamo tutti e un paese invece rinnovato certo bisogna essere tutti insieme lei pensa che l'italia riuscirà a navigare come dire sulla stessa barca proprio per raggiungere l'obiettivo comune forse questo è il momento giusto appunto è il momento è un momento giusto vede il mondo sta cambiando il covid purtroppo ci ha presentato anche alcune forme che non esempio di lavoro a distanza di studio che non avremmo neanche potuto immaginare soltanto alcuni mesi fa è il momento in cui il mondo sta cambiando dobbiamo interpretare questi cambiamenti per cambiare anche quelle situazioni che troppe persone dicono essere giuste ma che poche persone cercano di perseguire nel cambiamento bisogna dare una spallata a chi fingendo indifferenza lascia si dimentica di quanto è necessario fare per eliminare queste diversità io credo che in questo momento si debba ripartire si deve ripartire quello con la salute innanzitutto con l'economia ma anche con un mondo nuovo con un mondo migliore che superi queste queste situazioni inaccettabili e poi ecco mi consenta non ultimo il tema della violenza perché quello è ancora più inaccettabile è ancora più incredibile che in una società che si dichiara civile esiste una situazione di questo genere e su quello bisogna battere con ancora maggiore determinazione e lì bisogna iniziare dalle scuole bisogna iniziare dai bambini far capire loro che queste forme sono forme di inciviltà ecco prima di tutto quindi quindi teniamo duro e insistiamo in questo momento e da qui il collegamento tra regione lombardia e giusi versace nella lotta contro la violenza sulle donne sono ancora davvero molti i muri da battere primo tra tutti quelli dell'omertà giusi e naturalmente poi torno anche dal presidente fontana prima di dare voce e parole a te volevo mostrare questo breve video che ci introduce proprio l'argomento e soprattutto un qualcosa che tutti noi dobbiamo guardare attentamente non vedo non sento non parlo credo che l'omertà va da presa di petto uscire allo scoperto richiede coraggio ma è anche l'unica via per aiutare ed aiutarci non vedo non sento non parlo non vedo non sento non parlo non vedo non sento non parlo non sento non sento non parlo 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 non sento non sento non parlo Autore dei sovrapposti I muri del silenzio, il muro principale è quello dell'omertà. Giuse, Versace, questo è un progetto che ti vede protagonista ed è un progetto importante, è una mostra fotografica, è diventato un libro. Che cosa è l'omertà oggi? Così parliamo anche di questo progetto. Tanto grazie per questa opportunità, perché l'8 marzo serve anche per tenere accesi i riflettori. Su quante battaglie le donne hanno certamente vinto, ma su quanto ancora c'è da fare, ha detto bene il Presidente Fontana sotto il punto di vista culturale. I muri del silenzio nasce soprattutto per parlare alle nuove generazioni, per aiutarli attraverso l'arte, quindi attraverso questi scatti fotografici di volti noti e meno noti che hanno sostenuto questa iniziativa e si sono uniti per dire no alla violenza sulle donne, non giriamoci dall'altra parte, cerchiamo di alzare la voce, perché spesso l'omertà diventa complice dei fenomeni di violenza. E attraverso questo libro che io ho in mano e che ho particolarmente a cuore perché ci abbiamo lavorato tanto insieme a Miriam Bonn, la fotografa, in realtà l'idea è sua, io l'ho presa dal suo cassetto e l'ho realizzata prima con una mostra fotografica lo scorso novembre attraverso questo libro e devo dire che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il Presidente Fontana che ha prestato anche il suo volto perché all'interno di questo libro ci sono anche i suoi scatti insieme anche al Presidente Fermi del Consiglio regionale, tanti volti delle istituzioni, della politica, dello spettacolo, ma anche gente comune che si copre gli occhi, le orecchie e la bocca per rie non vedo, non sento, non parlo e in qualche modo anche aiutare attraverso questi scatti la gente a comprendere che tante volte dobbiamo anche un po' farci i fatti degli altri per aiutare donne a denunciare e a uscire da quel circuito purtroppo chiuso nel quale si trovano di violenza. Farci bene i fatti degli altri quando è solo sterile e polemica invece farci i fatti degli altri quando è importante e ancora oggi c'è tanta omertà giusi perché poi la necessità di riportare in vigore questa mostra che purtroppo in questo momento è solo virtuale ma insomma poco importa, ormai siamo tutti dentro il mezzo digitale da quando c'è l'emergenza Covid, però la necessità di riportare proprio in vigore questa mostra sottolinea che il problema è ancora molto ampio. Quest'anno legato alla pandemia è stata la dimostrazione perché i numeri purtroppo continuano a crescere il restiamo a casa per molte è diventato una prigione tante volte sono vittime anche del fatto che non hanno un'indipendenza economica infatti permettimi di ricordare che questo libro in edizione limitata nasce soprattutto con l'obiettivo di raccogliere fondi per aiutare donne vittime di violenze in qualche modo a trovare un po' di respiro per ricostruirsi una nuova vita una nuova indipendenza economica devo dire che c'è ancora molto da fare perché l'indipendenza economica e l'inclusione anche nell'ambito lavorativo per le donne richiede ancora tanto sforzo devo dire che rispetto ai dati che abbiamo a disposizione la Regione Lombardia guida questa classifica però ancora i numeri sono bassi nell'ambito del lavoro nell'ambito dello sport quante donne anche dirigenti a pari livello degli uomini ci sono purtroppo ancora poche e il fatto di non trovare lo spazio adeguato per le pari opportunità spesso porta tante donne all'isolamento spesso purtroppo i fenomeni di violenza avvengono all'interno delle mura domestiche e spesso queste donne proprio per il fatto che non hanno un'indipendenza economica si trovano in qualche modo schiave del proprio marito, compagno quindi è importante lavorare su questo ha detto bene, il Presidente ha fatto bene a ricordarlo sui giovani, sui ragazzi io spero quando sarà possibile Covid permettendo anche di portare questo progetto nelle scuole e aiutare i ragazzi a crescere anche con la consapevolezza che il rispetto per la vita, per se stessi e per gli altri rende la società migliore per tutti e poi uno dei dati più allarmanti è proprio questo che si denuncia meno quando la violenza è domestica proprio perché c'è la vergogna, c'è la paura c'è il timore di rimanere da sole è molto più facile, tra virgolette ovviamente denunciare quando la violenza arriva da qualcuno di esterno ma quando il nemico è in casa è complicato e appunto nel periodo del Covid nel quale siamo rimasti tutti più in casa ci sono dei dati che sono in aumento ecco, Presidente Fontana ha detto una cosa giusta Giusy Versace ha detto Covid permettendo ci auguriamo di portare presto questo progetto nelle scuole nel frattempo è chiaro e anche retorico però in questo caso ci sta la retorica che le istituzioni debbano avere un ruolo ancora più di primo piano le istituzioni devono sempre essere in primo piano in queste lotte ma ancora di più in un momento in cui non si può girare come vogliamo a causa del Covid ecco, la battaglia principale è quella non solo sul tema delle donne ma su tutte le tematiche che riportano all'ingiustizia sociale e poi insomma l'aspetto sociale dopo questo periodo di emergenza pandemica e economica sarà veramente al centro dell'attenzione assolutamente, le nostre politiche infatti si dirigono innanzitutto nel tentativo di evitare che si possano creare quelle difficoltà sociali che possono portare alla disperazione ecco io però riprendendo quello che lei diceva la violenza familiare molte volte mette nella mancanza di alternativa e questa è la cosa più drammatica la donna non solo ha vergogna magari a denunciare ma non ha alternative che dover non avere la forza questa è una violenza nella violenza è una doppia violenza non dare neanche la possibilità molte volte non mettere neanche nella possibilità la donna di esprimere la propria voglia di reagire a una violenza di questo genere io credo che le istituzioni mai come in questo momento debbano essere presenti debbano essere presenti per cercare di vincere le difficoltà sociali che si creano ogni giorno e che si creeranno io temo finché non potremo far ripartire avendo sconfitto il virus in tutto e per tutto la nostra vita e quindi a maggior ragione nelle questioni che attengono alla donna e alle ulteriori violenze che lo stare costretti all'interno di quattro mure domestiche rischia di accentuare io credo che non si debba lasciare indietro nessun tentativo esatto Giussi infatti c'è anche il tema al di là della vergogna della denuncia sulle violenze il tema dell'indipendenza economica visto che il nostro focus di oggi è sì quello della tutela delle donne contro la violenza ma soprattutto anche capire come si possano far emergere le peculiarità femminili per evitare tutti i gap che ancora esistono in Italia e che posizionano l'Italia peraltro in coda la classifica dei paesi europei virtuosi proprio per tematiche legate al welfare e alle donne dicevo la necessità di un'indipendenza economica perché altrimenti come diceva anche il presidente Fontana si è costrette spesso a non dire nulla perché poi si resta completamente da sole e poi qui il ruolo delle istituzioni l'ha già chiarito anche il presidente Fontana guarda posso aggiungere anche un'altra cosa insomma intanto io sono come dire terronissima nel sangue di origini calabresi milanese d'adozione lombardizzata ormai guai a chi mi tocca la mia Lombardia ma al tempo stesso anche guai a chi mi tocca la mia Calabria e devo dire che però secondo me in questa giornata così particolare dove in qualche modo possiamo tenere accesi i riflettori noi dobbiamo anche portare dei buoni esempi ci sono tanti esempi belli, virtuosi di donne, imprenditrici che hanno fatto la differenza continuano a fare la differenza anche in questo anno così particolare ci sono delle nuove start up che sono nate per la determinazione e la volontà di giovani donne che si sono rimboccate le maniche e che ce l'hanno fatta e penso che in questo momento di grande sconforto, sfiducia, di paura servono anche dei buoni esempi che possano in qualche modo trainare devo dire che la Lombardia ne ha diversi io ho recentemente partecipato a un convegno sulle donne e l'imprenditoria femminile e ho ascoltato le storie di 100 donne straordinarie che nonostante le difficoltà sono riuscite a trovare spazio e danno il proprio contributo alla crescita economica del nostro paese però aggiungo soltanto un spunto di riflessione che mi è venuto in mente mentre parlava il presidente Fontana c'è tutto un mondo legato alle donne con disabilità che spesso sono doppiamente discriminate in quanto donne e in quanto disabili spesso anche fenomeni di violenza toccano donne con disabilità donne con disabilità gravi che tante volte non hanno neanche la voce per poter denunciare non hanno neanche la possibilità di esprimere quello che hanno subito e tante volte purtroppo questi fenomeni passano quasi in sordina passami il termine perché se non c'è l'attenzione di qualcuno che comunque tiene d'occhio queste situazioni anche all'interno di strutture purtroppo i numeri continuano ad essere allarmanti quindi oggi penso che sia necessario imparare ad ascoltare perché viviamo in una società in cui troppo spesso si sente ma non si ascolta sono due cose diverse soprattutto la politica in questo ha un ruolo importante deve imparare ad ascoltare di più perché non basta solo sentire così come non basta soltanto leggere i titoli i tweet o i post serve approfondire perché ci sono anche tante come dire cose che le istituzioni hanno fatto tante leggi alle quali sicuramente che vanno migliorate ma ce ne sono altre che comunque tutelano e tante volte non si sanno quindi io credo che maggiore informazione maggiore ascolto possa aiutare anche in qualche modo ad aiutare queste donne che si sentono spesso sole a sentirsi meno sole e questo vuole essere anche il morire in silenzio che comunque per il momento non sarà una mostra perché non è possibile ma con la bella stagione io spero di poter riprendere a braccetto il presidente e fare una bella mostra un po' più ampia e soprattutto aperta al pubblico qui in Regione Lombardia per il momento parliamo solo di un'installazione di opere esposte agli ingressi degli edifici che possano sensibilizzare in qualche modo chi entra e chi esce dagli uffici di Regione Lombardia su questo tema ed è permettimi di dire fino al 31 marzo ma io spero di risentirti poi con la bella stagione e magari perché no vederci e invitarvi a un grande evento legato ai muri del silenzio anzi se lo vorrai chiederò alla nostra fotografa Miriam Bon di immortalare anche te certo ma assolutamente sì sarebbe un grande onore quindi io ti do subito la mia disponibilità e peraltro stavo dicendo noi saremo in prima fila quando almeno così anche di buon ospicio per tutto il tema covid quando ci potremo prendere a braccetto e mi metto in mezzo se me lo consenti tra te e il presidente Fontana e andremo insieme a vedere questa mostra peraltro dopo questo evento insomma cercheremo di parlarne sempre di più quindi Giussi io ti invito già a ripartecipare da noi dopo l'uscita di un comunicato stampa che arriverà dopo questa presentazione insomma non svegliamo nulla di più se non che a breve daremo tutte le informazioni necessarie presidente va bene allora ci prenderemo a braccetto tutti e inizieremo a a fare questa marcia questa maratona indipendentemente da quella di 24 ore di oggi che abbiamo voluto inaugurare qui sulle fonti tv inizieremo insieme noi tre dai assolutamente anzi sarà la prima manifestazione del dopo covid così collegheremo questa bella iniziativa alla bella notizia che abbiamo superato l'epidemia quindi avrà ancora più rilievo proprio perché si riparte da un nobile principio si riparte da una nobile iniziativa a dire che la vita ricomincia ad essere a ritornare normale impegno assunto impegno assoluto ecco grazie presidente questo ci vuole una giornata come questa e insomma mi ha fatto molto piacere che lei l'abbia ricordato peraltro a Giusy dico che insomma lei ha parlato di coraggio eccetera non a caso il titolo che abbiamo voluto uno dei titoli che abbiamo voluto utilizzare per aprire questa maratona proprio nel tuo spazio Giusy è 8 marzo storie di donne coraggiose tu sei l'esempio di tutto ciò no quindi no vabbè fatelo dire io guarda non ho non amo la retorica lo dico assolutamente perché poi non hai neanche bisogno di presentazioni ti conoscono conoscono tutti le tue battaglie e quindi insomma siamo con te anche in questo e massima disponibilità nella collaborazione futura quando potremo anche fare di più lasciami dire in chiusura che io ho solo le gambe in carbonio il resto è umano e come tutti mi arrabbio mi avvilisco a volte mi scurro ma in questo caso dobbiamo semplicemente ricordare a tutti e a tutte che difficile non vuol dire impossibile vuol dire solo difficile quindi serve coraggio determinazione fiducia per ripartire bene allora se abbiamo credo che i messaggi principali siano arrivati in apertura di giornata quindi io ringrazio tantissimo Giussi Versace vi invito a prendere visione di tutti i progetti che porta avanti a partire proprio dai muri del silenzio di cui avremo occasione di parlare nel dettaglio e naturalmente grazie al presidente di regione Lombardia di Attilio Fontana e a presto con entrambi grazie buona giornata e così abbiamo aperto in questo modo la nostra maratona